Ciao e benvenuto su questa breve storia che pubblicherò sui vari social. Cosa porterò a New York? Ne avevo già fatto un video ma lo rifaccio, ripilogo di tutto e con cose aggiornate, con prodotti, elementi aggiornati tipo la backpack, lo zaino e tanto altro. Allora, cosa essenziale, porterò il Mac, attualmente è in carica, il Mac, cosa essenzialissima per editare i video, poi zaino che devo ancora imballarlo con tutto sto ambaradam qui, iniziando dall'iPhone, sto registrando con il Samsung Galaxy Galaxy S22 Ultra, in più ci sarà una sorpresa a New York, poi iPhone con cover che mi sono fatto stampare apposta con il nome di una mia app, quindi icona, nome e QR code che chi vuole può scansionarla e scaricarla, poi ovviamente hub USB-C con le varie porte necessarie per il collegamento tra ricarica e altre relative porte USB tipo C e A, poi hard disk esterno con porta USB-C, così posso caricare i video che vado a editare sul Mac, vabbè, poi variadattatori vari per caricare l'iPhone con ingresso americano, uscita americana e soprattutto USB-C e cavo lightning, da USB-C a lightning, ho presi due, intanto, ok, poi il caricatore per il Mac sempre con uscita americana, che come voi vedete si può staccare e si può rimettere italiano, quindi in realtà hanno due, però diciamo che questo qua mi servirà soprattutto quando saranno gli Stati Uniti, ordinato sull'Amazon americano, poi, anche questo, molto utile, ho dato a trovare multiple, nel senso con varie porte, e come puoi vedere qua, abbiamo Unione Europea, Stati Uniti, Australia e UK, United Kingdom, con qua, con qui, le varie porte USB-A, con le varie informazioni e tutto, quindi in due basi che apri uno, ti puoi aprire US, tac, e attacco US, poi devo capire una cosa, che se in realtà qua io ci posso attaccare a una paese italiana, tipo nel mio caso, che penso qua al 100, ma non lo so, e poi uscita americana, così posso creare il mio dentifriccio, il mio spazzolino, scusate, il mio spazzolino, perché ha un ingresso italiano, non più uno Xiaomi, ma ha un altro, un Oral-B, boh, vediamo, Zaino Tech, fotocamera ZV1 per il vlogging con un gatto morto e perfetta, cioè, comodissima, rispetto a quell'altra più grande che ho, poi ha dato supporto per vlogging, oltre che il tripod che porterò, perché porterò inoltre il tripod, il treppiede, per registrare i video, quindi quello che metterò nel bagaglio Dada, stiva. Questo qui, le varie batterie per la ZV1, Sony ZV1, e questo anche per questo, ovviamente, l'ho bloccato, l'ho spento così non si scarica, questo, questo, ovviamente, prima di passare a questo, le varie mascherine, da viaggio, FFP2, viaggio è quando sarò in America, eccetera, negli Stati Uniti, e, infine, questa borsetta adatta a quello Zaino della Nordace, come puoi vedere qua, che con questo io posso contenere il passaporto, una penna, se nel caso qualsiasi cosa, qui i biglietti, i ticket dell'aereo, e poi qua, nel caso varie tessere, carte di debito, di credito, e qui dentro, ovviamente, ci ho messo i dollaroni, così, ovviamente, posso gestire tutto, diciamo, soprattutto, anche con i cash, con i contanti, per pagare là, non solo con carta, ma anche con dei contanti, con dei dollari, quindi questo è un breve video, anzi, un po' lungo, ma voglio un po' rassumervi tutto, in una storia che andrà sui vari social, tutto quello che porterò nel mio baggio New York, devo anche tagliare una barba, ma stasera la taglierò, così sono a posto, dovrò solo da tagliare i capelli, ma le taglierò in America, e poi ci saranno tante cose che vi racconterò giorno dopo giorno, dal day one, day two, e così via, fino a tutte le cose che andrò a vedere, quindi, ciao, ci vediamo a New York.